Così da passare la parola. Passo la parola a dottoressa Iardi per il saluto. Grazie Anna Rita, buongiorno a tutti, vi ringrazio per essere così numerosi, ringrazio quelli che ci seguono già da tempo e di nuovi arrivati. Oggi apriamo il ciclo di webinar dedicato al progetto Delivery Unit nazionale che deriva da una convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica ormai sottoscritta nel 2020, quindi siamo a fine programmazione perché il progetto si concluderà tra pochi mesi e abbiamo voluto riprendere gli appuntamenti con i webinar che sono stati sempre seguiti e abbiamo voluto arricchirli anche di nuove tematiche, quelle che sono diciamo al momento molto cogenti, come si dice, perché riguardano tematiche legate a PNRR3, quindi il DL13, ma anche tematiche che abbiamo affrontato nei precedenti webinar. Oggi il professor Mario Martelli ci illustrerà le procedure semplificate, in particolare l'analisi dei primi impatti attesi, che è uno dei lavori che con il progetto Delivery Unit abbiamo avviato e stiamo terminando, quindi ci permetterà di fare un focus su questa tematica e di andare a capire come sia svolto il nostro lavoro nel tempo. E soprattutto quella che è stata anche un po' la metodologia che noi abbiamo seguito e che il professore ci illustrerà nel webinar. Io non voglio rubare tempo, che è prezioso, perché ovviamente è contingentato sia dalla sua esposizione che poi sarà oggetto delle vostre domande. E quindi vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e passo la parola alla dottoressa Budelli. Grazie. Grazie Claudia, soltanto un attimo per ricordare di nuovo che vi invito a scrivere in chat le domande, riflessioni o quanto possa portare contributo alla presentazione. È fondamentale che la vostra partecipazione sia attiva per la buona riuscita della giornata. Passo la parola al professor Martelli e io resto in back. Scrivete se ci sono problemi in chat. Buon lavoro. Grazie, dottoressa. Buongiorno a tutti. Ringrazio le colleghe della presentazione. Io sono Mario Martelli, sono un economista che lavora per la presidenza del Consiglio dei Ministri in una specie di organo di supervisione della presidenza del Consiglio dei Ministri che si chiama NUVIR, il Nucleo per la valutazione d'impatto della regolazione che è costituito presso la presidenza, in particolare presso l'ufficio del consigliere giuridico della presidenza, che si chiama Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi appunto della presidenza del Consiglio e sono un esperto, ho il piacere insomma di essere uno degli esperti Formez sui temi appunto della valutazione, della semplificazione e di quant'altro, argomento su cui mi intrattengo con il Formez e con la presidenza da un pochino di tempo. Quello di cui parleremo oggi, di cui appunto poi verranno rese disponibili le slide che fanno parte del pacchetto Formez insieme a qualche altro allegato di cui parleremo oggi. Oggi appunto parleremo di procedure semplificate e l'analisi dei primi impatti attesi. Queste slide con il materiale legato appunto vi verranno rese disponibili. Di che cosa appunto parliamo? Ci sarà un'introduzione e poi parleremo per sezioni di questo elaborato che abbiamo fatto, che è questo appunto la scheda per la valutazione dei primi impatti attesi, dove ci sono i temi che svilupperemo durante questo incontro, sono problemi e obiettivi, la situazione di partenza, l'opzione e l'opzione zero, la rappresentazione grafica della norma oggetto di semplificazione in una situazione senza intervento, con intervento, un focus su uno dei temi importanti che è quello dei destinatari della semplificazione, quindi andare a capire a chi ci rivolgiamo quando appunto parliamo di andare a semplificare cose, e poi quali sono i passi e gli step che andiamo a fare quando dopo aver elaborato tutte le informazioni di cui prima andiamo a occuparci di stima preliminare degli impatti. Quindi di che cosa parliamo? Appunto questo webinar ha l'obiettivo di presentare come si predispongono queste schede di impatto, come si dice light, finalizzate all'analisi preliminare dei primi provvedimenti di semplificazione che si sono succeduti a livello nazionale dopo il 2017, evidenziandone quali erano le finalità degli interventi di semplificazioni, quali erano le caratteristiche applicative, quali sono state le principali criticità tecniche attuative. tutto questo pacchettone che vedete rientra nel contesto del famigeratissimo PNRR e delle attività che sono collegate all'implementazione di progetti e programmi complessi all'interno del PNRR, alla base delle quali ci sono le cosiddette milestone che prevedono attività di riforma e anche di semplificazione che è già avvenuta con una serie di decreti legge che si sono succeduti e questi decreti legge che si sono succeduti avevano appunto l'obiettivo di semplificare argomenti, norme e procedure che erano in qualche modo vigenti nei settori chiave indicati che erano quelli diciamo importanti del PNRR, edilizia, appalti, green economy, ambiente, energie rinnovabili quello che altro volete per cercare di eliminare a monte prima di attivare questi programmi e progetti di investimento cose che in qualche modo momenti normativi che potessero risultare in blocchi all'attività e non alla perfetta attuabilità di queste cose che uno si era messo in testa col PNRR. Quindi diciamo in qualche modo l'attività che stiamo facendo la ricollochiamo all'interno del PNR ovviamente citiamo il PNRR adesso e poi nel PNRR adesso e poi non lo ricitiamo più perché ci vorrebbero giorni solo per parlare di questi temi però ecco noi siamo un pezzettino dell'attività che in qualche modo è coerente con l'attuazione del PNRR. Che cosa parliamo quando parliamo di procedura semplificata? Noi con le procedure semplificate diciamo realizziamo interventi come si dice di tipo normativo, amministrativo e organizzativo al fine di stimare appunto gli impatti nei termini di riduzione di tempi e costi per tutta una serie di attività di semplificazione realizzate questo riguarda diciamo in qualche modo il FORMETS la funzione pubblica della presidenza del Consiglio dopo a partire dalla seconda metà del 2017. Stiamo parlando di semplificazioni allora questo di procedure semplificate questo termine diciamo che va inteso e declinato in modo il più possibile estensivo e come si dice a tecnico cioè quando parliamo di semplificazione delle procedure perlomeno in questo quadro in cui stiamo parliamo di tutte le attività appunto poste in essere da una pubblica amministrazione nell'esercizio di una qualche tipo di funzione amministrativa che ovviamente è teso a diciamo conseguire un interesse pubblico affidato alla stessa amministrazione a prescindere questo dal fatto che al termine di tale attività venga o meno emanato un provvedimento amministrativo formale di qualche tipo quindi abbiamo un terzo incaricato di vigilare e valutare e entrare nel merito di comportamenti di soggetti che sono diversi da se stessa quindi stiamo nel pieno della regolazione ogni volta che parliamo di regolazione e la semplificazione parte di un progetto di regolazione parliamo di incidere su dei comportamenti e alla luce di questo inquadramento nella categoria delle procedure come si dice semplificate rientrano tutti i procedimenti finalizzati a rilasciare un tipico provvedimento amministrativo quindi concessione, autorizzazione e chi più ne ha più ne metta i procedimenti finalizzati a rilasciare quello che si chiama un atto di assenso comunque non denominato, un nulla ossa, un parere comunque privo degli elementi che caratterizzano formalmente un provvedimento amministrativo e poi i procedimenti finalizzati a dare informazioni a chi chiede informazioni qui abbiamo un esempio la procedura di scoping in ambito ambientale in cui viene chiesto alla PA di definire le informazioni effettivamente necessarie da fornire nello studio di impatto ambientale qui abbiamo fondamentalmente i pesci che peschiamo all'interno di queste procedure semplificate sono fondamentalmente due DL il DL 76 del 2020 il DL 77 del 2021 che sono stati i provvedimenti cuore per l'attuazione del PNR ovviamente i DL che si sono suggeriti che poi sono stati convertiti in norme in leggi ordinarie non sono stati solamente questi mi viene in mente che l'ultimo è quello il 13 del 2023 quello di febbraio che ha ancora ulteriormente ridefinito ambiti e anche procedure semplificando ulteriormente procedure appunto all'interno del quadro del PNR quindi però insomma quello di cui parliamo sono cose che si sono succedute in particolar modo dal 2017 con particolare focus sui provvedimenti dal 2020 in poi la scheda la scheda di analisi di fatto passa per diverse fasi e sono queste che vedete con trassegnare dalle lettere A, B, C, D ed E e queste fasi traggono spunto per questa la premessa per questa scheda di analisi è che uno non si può scordare tra virgolette da dove viene io mi occupo come vi ho detto all'inizio di analisi e valutazione di impatto della regolazione per quanto alla presidenza attività che faccio in quest'organo che è diciamo indipendente sta dentro la presidenza ma è indipendente dalla presidenza stessa peraltro questa cosa che si chiama Nuvir è una milestone stesso del PNR nel senso che è stata chiesta dalla Commissione Europea al momento dell'attuazione del PNR e mette in condizioni di autonomia un gruppo di esperti che sono stati selezionati con una procedura ipercompetitiva di lavorare a sostegno e a supporto e complemento dell'amministrazione della presentazione appunto di cose di regolazione tutta questa premessa serve a dirvi che questa scheda di analisi che insieme con il Formez e con i colleghi del Formez ci siamo in qualche modo abbiamo ci siamo inventati l'abbiamo sviluppata tra i spunti tra i origini dalle esperienze qui potete prendere forse anche qualche tipo di appunto su questo argomento cioè dall'esperienza di analisi di impatto soprattutto delle esperienze di analisi di impatto fatte a partire dal 2017 quando fu riformato il regolamento per l'analisi di impatto che vincola tra virgolette tutte le amministrazioni diciamo i ministeri a redigere schede di analisi di impatto al momento che vengono presentati nuovi provvedimenti nuove norme nuove cose nuovi provvedimenti devono essere dotati di schede di analisi di impatto e quindi quando ci è venuto in mente seguendo i riferimenti del PNR seguendo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica il Formez aveva bisogno di sviluppare strumenti diciamo in qualche modo semplici semplificati abbiamo chiamato i light cioè comunque che si riferissero a una valutazione dei primi impatti ovviamente abbiamo mutuato un'esperienza ci è venuto in qualche modo ci è venuto mi è venuto naturale partire dall'esperienza maturata a partire dal regolamento sull'analisi di impatto la valutazione di impatto la consultazione di cui al DPCM 169 2017 del settembre del 2017 che appunto disciplina in chiave nazionale tutto il tema dell'analisi di impatto a questo regolamento del che in qualche modo è norma e che deve essere applicato da tutte le amministrazioni centrali si unisce e si complementa una direttiva della presidenza del consiglio sull'analisi di impatto la Vir e la consultazione febbraio 2018 di cui in qualche modo questa scheda di analisi di impatto semplificata vuole essere diciamo un'espansione una una prospettiva che mescola insieme le esperienze di analisi di impatto insieme con le esperienze della misurazione degli oneri amministrativi e le stime dei costi di regolazione poi vedremo quello che vuol dire che l'amministrazione e la presidenza hanno sviluppato a partire ormai da dal 2006 in poi quindi insomma un'esperienza consolidata e questo è diciamo una delle ultime delle più fresche appendici che ci abbiamo le fasi che vediamo sono appunto descrizione della situazione di partenza perché tutto quello che ci interessa specificare è che noi in qualche modo anche una prospettiva di semplificazione una azione di semplificazione di una procedura parte da una procedura esistente quindi diciamo le situazioni di partenza vanno descritte c'è una descrizione della norma nella versione modificata e quindi una definizione degli obiettivi che la norma si pone e che poi costituiscono guarda caso strumenti questi obiettivi per andare a valutare gli effetti in qualche modo di questa norma c'è una rappresentazione grafica dell'intervento di semplificazione prima e dopo questa qua è una parte molto importante di quello che viene fatto attraverso queste schede perché graficamente raffigura il processo e le fasi della norma che in qualche modo era vigente prima che fosse semplificata di cui si cerca di stabilire rappresentandola graficamente quali siano le concrete diminuzioni soprattutto in termini di tempi che in qualche modo l'attività di semplificazione vuole prefigurare poi ci sono delle considerazioni sui destinatari dell'intervento di semplificazione e poi appunto c'è una stima per eliminare dell'impatto su costi e tempi problemi e obiettivi primo step stiamo appunto scheda semplificata problemi e obiettivi primo step analisi del problema e degli obiettivi io vi risparmio il tempo è come si dice diranno stiamo condensando in poco più di un'ora cose che quando vengono fatte all'università ci si mettono mesi in corsi più lunghi io vengo da un corso che c'è stato la settimana scorsa alla scuola nazionale dell'amministrazione il corso è durato settimane su questi temi quindi evidentemente ci sono tutte una serie di possibilità approfondire i temi e di approfondire quelli che sono questi step che oggi vengono raccontati brevemente sull'analisi del problema e degli obiettivi qui faccio riferimento alla mia esperienza questo è lo step fondamentale ogni volta che parliamo di impatti direi che ci sono due cose che ci interessano veramente come insegna sia l'Ox che è l'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che per primo fin dagli anni 60 ha affrontato i temi della qualità della regolazione dell'analisi d'impatto e di tutti gli strumenti perché in qualche modo migliorare l'ambiente come si dice regolatorio ha messo a punto anche una sorta di decalogo su quelli che sono i punti cruciali ogni volta che si parla di qualità delle norme e qualità dell'analisi d'impatto il primo argomento che deve essere sviluppato dall'analista che si trovi a occuparsi di una procedura semplificata oggi piuttosto che di mettere la riforma del codice degli appalti domani piuttosto che modificare i regimi di aiuto alle piccole e medie imprese dopo domani norma del ministero dell'industria come si chiama adesso o qualsiasi cosa volete il primo step da valutare è il tema del problema cioè noi dobbiamo convincerci che valga tra virgolette la pena intervenire e che ci sia non solamente delle idee o delle vaghe opinioni sul fatto che ci possono essere carenze e criticità constatate come si dice nella situazione vigente ci deve essere un vero e proprio problema da risolvere e quindi in questa fase dell'attività bisogna evidenziare in modo semplice puntuale senza come si dice latinorum e senza ammantare il tutto di esplosive considerazioni giuridiche quelle che sono le esigenze e le criticità ovviamente magari anche giuridiche ma soprattutto sociali e economiche che richiedono un intervento normativo qui parliamo di procedure semplificate e quindi evidentemente parliamo di un vigente in base al quale l'amministrazione e i destinatari sono chiamati a fare cose poi vi farò vedere pure un esempio diciamo molto fresco e queste cose non si possono fare perché la normativa vigente evidentemente doveva essere semplificata perché appunto il vigente poneva dei problemi e dei vincoli in relazione tali che riscontravano poi i problemi sulla tempistica problemi sui costi e quant'altro e quindi per fare tutto questo al momento dell'analisi del problema devo riportare una concreta evidenza empirica che deve supportare quella che si chiama l'analisi del problema e devo fare delle considerazioni oggettive non banali diciamo lì qui veramente semplici sul fatto del perché e per quale motivo le norme attuali non funzionano non sono state sufficienti a risolvere un problema ok mi sto dando e qui faccio riferimento all'esempio che cercherò di darvi brevemente più tardi c'è un problema di garantire la ricarica elettrica delle macchine perché con le norme attuali non funzionano non sono sufficienti a risolvere il problema per esempio per quello che riguarda il posizionamento delle colonnine elettriche di ricarica sapete perfettamente perché è argomento all'ordine del giorno che si parla di decarbonizzare tutte e di togliere e di escludere i motori termici dopo il 2035 evidentemente queste macchine che a quel punto ci saranno se vedo che anche le più grandi marche si stanno orientando tutte sull'elettrico se vedo che a un certo punto la Ferrari cioè orgoglio nazionale sta pensando di virare progressivamente pure lei ai motori elettrici mi devo creare un problema su come si ricarichano queste queste vetture e quindi devo andare a verificare se le opportunità di ricarica proprio vita concreta reale che attualmente sono previste stanno funzionando o non stanno funzionando e quali sono in qualche modo gli argomenti che incidono sulla complicazione legate appunto alla norma vigente individuati i problemi abbiamo l'individuazione degli obiettivi di breve medio e lungo periodo da realizzare mediante l'intervento normativo quello che mi interessa qua è che gli obiettivi sono innesso causale con i problemi gli obiettivi nel nostro schema di analisi di impatto ancorché semplificato e ancorché light ancorché primi impatti è che ci deve essere un'evidente connessione tra obiettivi e problemi gli obiettivi non sono altro che ho problemi sulle ricariche l'obiettivo è risolvere i problemi sulle ricariche quindi gli obiettivi sono se non ci sono i problemi non riesco ad avere gli obiettivi e quindi gli obiettivi stanno in chiave funzionale rispetto ai problemi ovviamente al momento che declino gli obiettivi declinerò pure indicatori in qualche modo di efficacia ma anche di efficienza di rilevanza che in qualche modo considerano consentiranno all'analista soprattutto in chiave di attuazione quello che stiamo vedendo è che noi non ci interessa solo disegnare una nuova norma e verificare sulla carta quale sia l'impatto ci interessa anche nel medio periodo mettere alla prova la norma e verificare se questa norma sta effettivamente funzionando quindi quello di cui parliamo è analisi di impatto ma poi soprattutto valutazione di impatto e la valutazione di impatto ce la costruiamo al momento che andiamo a fare le attività di prima analisi nell'analisi di impatto si segue un percorso logico è quello che vorrei vedere rappresentato in questa cosa ci sono problemi obiettivi strumenti effetti attesi e quindi una scelta dell'alternativa di quello che intendo fare che deve essere evidentemente diversa e delta rispetto al passaggio alla situazione di partenza ovviamente questi passaggi e questi step che stiamo facendo vedere in questa circostanza non sono necessariamente così lineari come li vedete rappresentati in questo caso la relazione AER ancorché diciamo semplificata serve soprattutto a esplicitare quella che si chiama la logica dell'intervento e il modo in cui si ritiene che è una polisi in questo caso una polisi di semplificazione possa condurre ai risultati attesi quindi quello che ci serve di evidenziare sono due cose in essi tra causa e effetto e tra causa e effetto devono essere dei nesti evidenti vale la considerazione che post hoc non vuol dire propter hoc cioè non è che per il fatto che succede dopo è a causa di quello che è successo prima e delle modifiche che abbiamo fatto prima dobbiamo evidentemente collegare in maniera profonda con essi causa e effetto il tema problemi obiettivi nonché dobbiamo verificare come tutte queste prospettive nel caso di specie tutte le prospettive che diamo di semplificazione di procedure effettivamente si riflettano in modifiche nei comportamenti attesi degli attori rilevanti che sono i destinatari diretti e indiretti della regolazione su cui stiamo andando a intervenire quindi evidentemente questi nesti di causa e effetto sono assolutamente importanti e sono assolutamente da qualificare diciamo che l'analisi di impatto nel nostro caso aiuta a capire e a ricostruire una volta che questa polisi di semplificazione sia stata attuata appunto quali sono tutte le finalità dell'intervento e i meccanismi attraverso cui si intendeva raggiungerle quindi ricostruire quella che si chiama appunto la logica dell'intervento qui abbiamo un esempio che vi ho voluto dare proprio tratte da concrete esperienze di analisi l'impatto a corredo di norme e qui c'è il tema se sia stato o meno approfondito in maniera conseguente e rilevante il tema proprio dell'analisi dell'intervento in chiave di definizione esatta e non equivoca di problemi che sono la base del fatto che io sono chiamato a intervenire qui parliamo di una norma proposta dal Ministero della Giustizia dove in qualche modo nell'analisi di impatto il Ministero a sostanza e a sostegno delle proprie considerazioni parla di disposizioni diciamo di le criticità sono legate alle disposizioni contenute in una legge primaria che comporta il fatto che te sei tenuto comunque per questo motivo diciamo per esigenze di carattere giuridico veramente giuridico a muovere comunque un'attività di riforma che prevede una serie di cose che devono essere fatte da una serie di attori diciamo concatenati che sono quelli che vedete rappresentati questa è una è una vera prodotta dall'amministrazione il problema è che l'esigenza non può essere in questo caso la semplice attuazione di una delega e ci deve essere un nesso che qui in qualche modo non è rilevato e presentato tra le esigenze e l'intervento in qualche modo proposto oltre al fatto che ci vuole sempre quello che vi dicevo prima in una delle slide precedenti ci vogliono delle evidenze empiriche non equivoche che devono essere sostanziate in numeri dati tutto questo tipo di analisi che facciamo l'analisi grande l'analisi light i primi impatti e tutto quanto non sopporta gli avverbi e non sopporta il condizionale e quindi parlare di estrema eterogeneità come parliamo in questi casi non mi dà nessun argomento che poi mi permetterà di valutare in ogni caso gli impatti se l'estrema eterogeneità è un problema deve essere declinato diciamo in maniera approfondita per chiarire quali sono i confini e i limiti di che cosa vuol dire questo concetto che stiamo trasmettendo questo che vedete per esempio invece è una sempre una scheda di analisi di impatto diciamo tra virgolette ben fatta dove si parla di fattori di criticità qui parliamo di argomenti legati all'intervento a un provvedimento istruzione scuola dove vedete che in qualche modo si dà un'evidenza empirica a quelli che sono i problemi che in qualche modo costituiscono poi costituiranno se c'è una scarsità di risorse finanziarie umane e tecnologiche evidentemente l'obiettivo sarà complementare e integrare le risorse finanziarie umane e tecnologiche garantire una maggiore flessibilità nella gestione dell'organico un obiettivo di rango superiore è l'elevata dispersione scolastica cioè diminuire il problema della dispersione scolastica e adeguare il sistema attuale delle supplenze tutto questo con numeri che in qualche modo circostanziano e danno un quadro di quello che è il problema analisi del problema quindi aspetti chiave evitare confusione tra analisi del problema definizione obiettivi e contenuti dell'intervento normativo per noi il cuore è l'analisi del problema e l'analisi del problema rapportato a quelli che sono i destinatari che vedremo tra poco laddove tutto questo non sia abbastanza chiaro all'analista che sta intervenendo in chiave nazionale oppure in chiave locale non ho su provvedimenti enorme per esempio regionali si evidenzia un problema io non ho sufficienti informazioni per capire diciamo la magnitudo del problema come il problema si dipani tra vari destinatari o quant'altro approfondisco con meccanismi di consultazione credo che all'interno di questi webinar farete delle cose pure sulla consultazione la consultazione è uno strumento essenziale anche soprattutto in questa fase dell'analisi perché aiuta a approfondire la criticità della situazione attuale voi tra virgolette passatemi il termine orribile vi state rivendendo prodotti di regolazione o prodotti di semplificazione dovete evidentemente mettere su un ipotetico mercato beni e servizi in questo caso di regolazione che verranno resi disponibili per qualcuno che se la comprerà e se le dovrebbe tra virgolette ovviamente sempre tra virgolette comprare questi servizi di regolazione e quindi approfondire l'ascolto approfondire quali sono i temi su cui per esempio questa cosa viene vista da quelli che questa cosa se la dovranno diciamo in qualche modo gestire cioè i destinatari è un momento importante che si fa attraverso la consultazione ovviamente non limitarsi a motivazioni di tipo esclusivamente giuridica a noi non ce ne frega niente tutto quello che stiamo facendo in questa situazione sono considerazioni totalmente anormative e a giuridiche noi stiamo su problemi e vediamo come questi problemi che evidentemente poi troveranno una loro forma giuridica dobbiamo andare al cuore di questi problemi evidenziare quali sono le cose negative che si creano e quindi non dirmi che abbiamo questa cosa che poi ha evidentemente una chiave giuridica stiamo andando a modificare ogni volta che parliamo di regolazione andiamo a verificare un esistente e quindi in qualche modo questa esistente ci sarà qualche cosa che dal punto di vista normativo non funziona e quindi evidentemente non limitarsi alle motivazioni di tipo giuridico che sono casomai i conseguenti i susseguenti e che andranno in qualche modo a rivestire la nostra analisi di impatto poi alla fine non sottolutare che la dimensione del problema ovviamente non è assoluta ma dipende in modo essenziale dalla tipologia e consistenza numerica dei destinatari cioè la regolazione è rivolta a qualcuno che la deve usare in un certo territorio considerato in un certo settore economico considerato in una certa interazione tra destinatari in territori diversi e che si muovono in settori diversi e quindi evidentemente la dimensione del problema dipende da questi argomenti ed è una chiave che va presentata al momento che sto facendo l'analisi non dimenticarsi che tutto questo di cui parliamo questa analisi di impatto è in qualche modo informazione noi stiamo prendendo decisioni su cose che non funzionano e certamente dobbiamo approfondire tutto quello che stiamo facendo è restituire come si dice decisioni informazioni per decisioni informate noi abbiamo informazioni sbrindellate che devono essere messe insieme in maniera organizzata e date al nostro decisore pubblico che in qualche modo indirizza sia che sia il presidente della regione X il sindaco della città Y il presidente del consiglio dei ministri il ministro in questione quello deve prendere una decisione e in qualche modo noi gli stiamo dando elementi per prendere una decisione informata e quindi tutto quello di cui stiamo parlando è dare elementi per decisioni informate questo vuol dire che le prime informazioni che dobbiamo dare ce le deve dare lo stesso come dire decisore pubblico perché se il decisore pubblico decide che a lui del tema dei problemi legati alle colonnine di ricarica non è un argomento rilevante perché a lui gli interessa altro evidentemente è inutile stare a concentrare la propria attenzione il proprio focus sulle colonnine di ricarica e magari gli interessa invece che ne so la cultura degli ulivi piuttosto che qualche cosa le prime informazioni di cui abbiamo abbiamo bisogno di informazioni per generare informazioni diciamo adeguate ma la prima informazione che ci deve venire come vedete in questa vignetta che è tra un fotogramma tratta di un film che diciamo nell'immaginario nazionale è un film che credo più o meno tutti hanno visto i due che stanno qua sono il tipico rapporto tecnico-politico nel senso che il tecnico e il vigile a cui loro si rivolgono per sapere dove dobbiamo andare ma dove dobbiamo andare evidentemente lui risponde io non so che dirvi se non lo sapete voi che vi posso dire io voi avete la funzione del vigile siete il tecnico che per dare indicazioni ai politici e per dare indicazioni anche nei termini dell'analisi di impatto avete bisogno che il politico vi faccia delle domande coerenti adesso non vi voglio fare considerazioni su di tipo di filosofia di cosa per cui di solito non si possono fare domande di cui già non si conoscono le risposte però sicuramente una delle prime informazioni allora se è vero che tutto questo è elaborazione di informazioni quello che a noi ci serve è che le prime informazioni sono quelle che vengono proprio dal nostro decisore pubblico e quindi questo argomento non va assolutamente sottostimato secondo step descrizione della norma della versione modificata quindi obiettivi descrivere in cose di sostanza l'intervento indicando se si tratta di una nuova misura o di una modifica di una disposizione già esistente se interessa quelli che si chiamano singoli procedimenti o addirittura sottostep quelli che si possono definire i giuristi gli amici definiscono endoprocedimenti precisare se si tratta di una misura nuova oppure di una modifica su qualcosa già esistente aggiungere quindi la descrizione sintetica dei punti aspetti sui quali incide concretamente l'intervento dico io per dire prospettiva di semplificazione all'interno di un processo dell'autorizzazione ambientale sono stati ridotti i termini della consultazione dei soggetti interessati da 30 a 15 giorni è stata introdotta una nuova fase di consultazione oppure è prevista esplicitata la possibilità di richiedere integrazione documentale che sospende i termini di adozione del provvedimento finale o dell'endoprocedimento da n giorni a m giorni sono stati ridotti i termini allora se voi andate a vedere mi vengono in mente diverse norme di semplificazione e mi vengono in mente quelle collegate al DL 76 al DL 77 sono tutte norme che funzionano in questo modo cioè c'ho tempistica che prima era un modo e adesso è un'altra che si riflette su certi destinatari piuttosto che un'altra e che quindi parte da una situazione le criticità che dicevamo troppo prima si decide che i tempi erano lunghi e che quindi si stabiliscono nuovi obiettivi e nuovi termini per fare cose in tutto questo abbiamo gli obiettivi smart ogni volta che ci occupiamo di mettere in campo diciamo tra virgolette nuova regolazione ci dobbiamo ricordare che dobbiamo declinare gli obiettivi di quello che intendiamo conseguire perché poi sono quelli che ci guideranno nel capire gli impatti e gli obiettivi sono gli obiettivi smart così come li prevede guarda caso comunque diciamo l'Unione Europea all'interno di questi smart è un acronimo che in inglese vuol dire furbo intelligente ed è un acronimo di sigle che sono quelle che vedete qua gli obiettivi devono essere specifici cioè devono essere precisi e concreti vi ricordo che di fronte a un problema fumoso l'obiettivo diventa fumoso mentre invece qua devono essere diciamo molto mirati devono essere e questo qua è uno dei concetti indispensabili devono essere misurabili se non ci abbiamo obiettivi misurabili non ci abbiamo una possibilità di prevedere un intervento che in qualche modo vada a finire da qualche parte e devono essere misurabili e time dependent cioè devono fissare un limite temporale in cui l'obiettivo deve essere conseguito perché altrimenti diventa appunto non abbastanza specifico non misurabile non diventa realistico e devono essere accettati da tutti quelli che sono i destinatari del nostro intervento qui vi rifaccio sempre brevissimamente un esempio tratto da un'analisi d'impatto prodotta dall'amministrazione qui per l'amministrazione che redige l'analisi d'impatto e che fa parte insomma presenta un'analisi d'impatto l'obiettivo a breve termine del presente intervento normativo risulta essere quello di esercitare la delega normativa e quindi poi c'è una descrizione della delega come vi dicevo prima evidentemente questa cosa non va bene l'obiettivo di un intervento pubblico di un provvedimento non può essere mai l'attuazione di una delega a noi che ce ne frega che c'è una delega che ci sia un DL che ci sia un decreto legislativo o altre simili amenità a noi ci interessa che partiamo da un problema X vogliamo andare verso un obiettivo Y che ci risolva il problema in questione e che faccia parte magari di un quacerbo di interventi che insieme risolvano problemi di ordine più gravi e quindi in questo caso limitarsi a parlare di esercitare una delega normativa non è che semplifichiamo per semplificare non è che semplifichiamo perché abbiamo una norma che ce l'impone se abbiamo una norma parliamo dell'obbio parliamo invece di in questo caso semplificare procedure a fronte di risolvere concretamente problemi che abbiamo in qualche modo delineato ed evidenziato in questo caso e questo ci viene bene questa è un'analisi di impatto specifica in questo caso l'obiettivo specifico guarda caso è un eccesso di costi amministrativi sostenuti dagli utenti in questo caso nel sistema giudiziario per la formazione e trasmissione degli atti processuali capite che qui stiamo modificando dei termini della procedura civile l'abbattimento dei relativi costi sostenuti dei tempi impiegati delle cancellerie per la gestione documentale e via seguitando evidentemente qui gli obiettivi sono in qualche modo specifici si innestano in obiettivi generali e ci permettono in qualche modo con lo svilupparsi dell'analisi di andare a capire dove vogliamo andare a parare e quali saranno gli effetti sui destinatari le opzioni e l'opzione zero perché io focalizzo molto sull'opzione zero perché ci vuole le nostre schede dell'analisi devono descrivere esattamente la situazione normativa di partenza cioè devono descrivere i problemi che il DCDH hanno portato l'intervento di semplificazione e a quale problema si cerca di dare rimedio da che è stato proposto nell'ambito nel quale contesto è nata la proposta quando parliamo di regolazioni per opzioni si intendono le diverse alternative individuate per raggiungere gli obiettivi dell'intervento la definizione dell'analisi delle opzioni riguarda i possibili contenuti dell'intervento normativo e sicuramente nel nostro caso non il fatto che la procedura di semplificazione la faremmo con una direttiva piuttosto che con un decreto legge piuttosto che con un provvedimento del dirigente sono tutti chiavi che noi assumiamo che ci sia una struttura e un servizio giuridico che poi ci impacchetteranno i provvedimenti sulla base di quello che sarà stato un nostro percorso cognitivo che avremmo fatto proprio attraverso l'analisi evidentemente queste opzioni devono essere realistiche e coerenti come si dice con gli obiettivi va da sé che posso considerare opzioni che non cioè inutile considerare opzioni che sono palesemente inattuabili o incoerenti con quelle che sono le finalità dell'azione che mi prefiggo e che è quella che nasce dalle criticità e dai problemi dello step 1 e quindi da questo punto di vista dobbiamo credere che cosa è per noi l'opzione 0 quando parliamo di queste cose qui per la cosa qui abbiamo tutto nel nostro menu di regolazione abbiamo tutta una classificazione d'opzione dove sicuramente si parla dell'opzione 0 non è un caso che in questa rappresentazione grafica si parli di opzione 0 come status quo vedremo da un seguito perché tutte le opzioni differenti che possono essere deregolamentazione e semplificazione come quella che stiamo parlando oggi ma pure autoregolazione quasi mercato regolamentazione attraverso informazione regolamentazione diretta che è quella che in Italia a noi ci piace più di tutti evidentemente queste sono tutte le alternative che pescheremo rispetto alle cose che dobbiamo fare rispetto al nostro problema pescheranno in questo menu che sono quelle che vedete rappresentate noi qui quello che ci interessa è evidenziare che noi dobbiamo partire per forza in questo tipo di analisi proprio concettualmente dall'opzione 0 che può essere intesa in vari modi per quello che ci riguarda noi l'opzione 0 è lo status quo cioè l'opzione 0 quando parliamo di opzione 0 qualità della regolazione non vuol dire che la regolazione non esiste anche una regolazione che non esiste vuol dire che il settore è profondamente normato nel senso che i destinatari diretti e indiretti possono fare tutti come gli pare evidentemente l'assenza di normazione come punto di partenza serve proprio come punto di partenza cioè quindi non parliamo di nessuna modifica alla regolazione attuale o magari anche di miglioramento dell'attuazione perché ci sono norme in vigore che non sono sufficientemente attuate e proprio i termini della loro attuazione ci dà il quadro della situazione vigente noi con l'opzione 0 parliamo della situazione vigente perché in qualche modo l'opzione 0 costituisce per noi quella che si chiama in gergo la baseline siccome l'analisi di impatto è un'analisi incrementale e misura tutti con dei termini di paragone noi abbiamo bisogno sempre e comunque dell'opzione 0 perché ci fa da termine di paragone rispetto a quello che vogliamo fare e a quello a cui vogliamo andare a parare introducendo la nuova regolazione che in questo caso sarà una semplificazione dell'opzione diciamo 0 cioè delle norme concretamente in vigore quindi per noi quando facciamo questo tipo di attività definire il contesto definire l'opzione 0 anche dal punto di vista normativo è assolutamente fondamentale cioè vale opzione quello che tu c'hai è che in molte circostanze poi l'amministrazione è tendenzialmente portata a parlare del nuovo lasciando perdere il vecchio ma siccome l'AIR è appunto un'analisi incrementale parlare del nuovo senza parlare del vecchio è impossibile perché non abbiamo quello che si dice un termine di paragone qui ci avete evidentemente un esempio sempre brevissimo l'ordinamento nazionale non è conforme alla disposizione della direttiva e pertanto la sua attenzione è un atto dovuto questa è una cosa che come nucleo per l'AIR del governo ogni volta che la legge ti fa investialire ma che vuol dire che la sua attuazione è un atto dovuto è ovvio che è un atto dovuto tu hai fatto tutto un processo qui parliamo di ricepimento di qualche cosa di comunitario peraltro hai partecipato a tutta una fase ascendente c'è stata un'attività propedeutica e prodromica prima che venisse attuato il decreto legislativo relativo a questa nuova norma di regolazione che tu mi dici che è un atto dovuto e che quindi non studi l'esistente vuol dire che non hai capito proprio come funziona l'analisi perché non riesci a fare nessuna considerazione su come la cosa nuova sia delta rispetto all'esistente qui abbiamo il simpatico avvocato commercialista che ringrazia l'agenzia delle entrate che gli crea lavoro con tutte le incomprensibili norme di regolazione che voi introducete io non avrei un mestiere se voi non introduceste queste norme per noi la deregolazione o semplificazione è lo snellimento o eliminazione qui stiamo proprio nel cuore della procedura semplificata di cui parliamo snellimento eliminazione di norme o procedure in un'area settore soprattutto con particolare riferimento a tutti quelli che sono gli adempimenti amministrativi e quindi la semplificazione ha tipicamente lo scopo di eliminare ostacoli all'azione e oneri burocratici ovviamente l'Italia è il paese che tutti i nuovi governi che entrano non importa quale che sia il governo parlano di problemi burocratici semplificazione abbiamo bisogno di fare la semplificazione e tutto quanto ci sono stati nel corso di decenni un sacco di tentativi sicuramente c'è stato qualche passo in avanti ci sono stati tanti fallimenti evidentemente sarebbe probabilmente noi nel nostro piccolissimo riteniamo che anche gli strumenti per l'analisi e la valutazione di queste politiche possano dare un contributo effettivo perché ovviamente ragionando sui temi della semplificazione su quelli che sono i principali vincoli e ostacoli all'azione ragionando in maniera strutturata e in questo caso con questo tipo di strumenti questa cosa ci permette di avere dei concreti miglioramenti riguardo a quello che dobbiamo fare rappresentazione grafica della norma qui vi faccio vedere che cosa vuol dire rappresentare graficamente della norma graficā che Non so, si vede? Sì, sì, si vede benissimo. Allora, questa qua sono proprio procedure nel DL 77, diciamo elaborate da noi come Nuvir, che fanno vedere plasticamente come per esempio l'articolo 23 e 25 del testo unico dell'ambiente, questa è la situazione come si dice vigente, dove si vede proprio mettendo in fila la norma, quello che dicono questi articoli con tutti i loro varie proposizioni, sono articoli lunghi, tra virgolette, che prevedono che per determinate istanze riguardo alla procedura via statale, questi sono gli step che debbano essere fatti. Evidentemente, vedete, questa riduce, questa che vedete qua, riduce la procedura via PNR di DL 7721, prevede tutta una serie di step per cui i giorni si riducono, i momenti di presentazione di vari endoprocedimenti si riducono e vengono conteggiati e questo ti consente di dire che rispetto a una cosa che può durare da 160 a 420 giorni, dura da 125 a 285 giorni. Idem per la procedura PUA statale, ante DL 7721, che prevede 255 a 315 giorni, quindi le norme in questo caso, quello che vi voglio trasmettere, vanno ripensate e ricostruite graficamente in questo modo. Se non c'è questo tipo di ricostruzione grafica che mano a mano va pensata, immaginata, proprio all'interno della vostra analisi di impatto, non riuscite ad avere contezza su come questa cosa possa funzionare. Tant'è, evidentemente, i tempi si riducono rispetto alla gestione precedente e così in tutti i casi che in qualche modo vi state intrattenendo con norme di semplificazione. Ok? Quindi, cioè, ricostruire tutti gli step, ricostruire tutti i passaggi, immaginarsi un flowchart e immaginare graficamente questo flowchart, perché, credetemi, aiuta moltissimo anche chi sta prendendo la decisione di adottare questo DL. Queste norme del DL 77 sono state adottate anche sulla base e soprattutto sulla base di queste considerazioni, di questi grafici che vi sto facendo. E quindi sono assolutamente momenti e passaggi ineludibili dell'attività che stiamo facendo. Siamo ritornati. Si rivede il... Quindi, rappresentazione grafica dell'intervento. Si vede? Sì, sì, si vede benissimo. Ok. Quindi, laddove possibile, direi indispensabile rappresentare graficamente il procedimento. Nel caso che si tratti di interventi su procedimenti già esistenti, ed è il caso che vi faccio vedere, il flowchart va prodotto nella situazione vigente. Ed ecco perché facciamo l'opzione zero e capite l'importanza dell'opzione zero, e va confrontato con la situazione dopo l'intervento. Perché solo quello ci permetterà di vedere i delta specifici. Destinatari della semplificazione. I destinatari della semplificazione vanno individuati tra soggetti pubblici e privati, diretti e indiretti, e sono quelli che andranno, tra virgolette, sempre, tra virgolette, a beneficiare dell'intervento. Non vanno identificati in modo generico. Capita che te leggi analisi di impatto, anche più estese, su provvedimenti complessissimi, importanti, di grandissimo impatto, e ti dicono, guarda, l'intervento, i beneficiari dell'intervento sono tutte le amministrazioni pubbliche. Mentre invece, magari, l'intervento riguarda solamente certe amministrazioni, sottoamministrazioni, oppure certi settori industriali, piuttosto che altri, oppure certi consumatori, piuttosto che altri. Quindi, in particolare, all'interno di ogni categoria dei destinatari privati, diretti e indiretti, appare opportuno distinguere tra diverse sottocategorie, tenuto conto di diversi effetti che l'intervento potrà produrre su ognuno di esse. Noi stiamo modificando permanentemente i comportamenti delle persone. E se modifichiamo i comportamenti delle persone, queste persone li entrono in categorie che vanno identificate in maniera non equivoca. Quindi, una nuova norma che impone standard ambientali differenziati in base all'attività avrà evidentemente costi di adeguamento differenti per le imprese operanti nei diversi settori, perché se io prevedo che una norma ambientale a certe imprese, in certi settori, in certi settori, li prende particolarmente di petto perché sono settori sensibili e tutto quanto, evidentemente queste andranno individuate con attenzione. Peraltro, il nostro decisore pubblico in qualche modo ce le sarà pure grato, perché evidentemente quei destinatari sono anche, tra virgolette, elettori che valuteranno anche in qualche modo questo tipo di interazione rispetto a dove si vuole andare a parare con la regolazione. Quindi, non generico, ma in modo specifico. Le categorie, questa è una cosa tratta dalla direttiva appunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i destinatari vanno suddivisi tra pubblici e privati. Le categorie che vedete sono quelle che vedete, sono degli esempi, ci interessano dei privati, famiglie, cittadini, imprese, le sottocategorie sono imprese per passi di addetti, imprese per settore di attività, famiglie per numero di componenti del nucleo familiare, popolazioni. Se faccio il disegno di legge anziani, evidentemente mi devo andare a fare degli approfondimenti molto puntuali su che cosa riguarda il tema degli anziani, la gestione delle famiglie, perché solo così poi riesco a calibrare quali sono gli altri destinatari e tutto quello che in qualche modo è coerente rispetto al provvedimento che intendo adottare. Qui vedete l'ennesimo esempio, questo qua è un buon esempio evidentemente, dove i destinatari sono le imprese del settore cinematografico e dello spettacolo e poi la collettività in generale, questo è un provvedimento in qualche modo anche abbastanza recente sui sussidi e cose appunto per le imprese del settore cinematografico e qui in qualche modo ci avete, questo è solo un estratto, ovviamente l'analisi d'impatto è più gravida e piena di dati, lì ci avete cose, numeri che in qualche modo vi consentono di capire dove volete andare a parare e verso quali destinatari. Siamo arrivati alla stima preliminare degli impatti e la stima preliminare degli impatti vuol dire dobbiamo analizzare e possibilmente quantificare i principali impatti in termini di riduzione dei tempi e dei costi rispetto alla situazione di partenza e a quella platea dei destinatari ovviamente concentrando su quelli che chiamiamo i costi regolatori più rilevanti, adesso tra un minuto vedremo che cosa parliamo quando parliamo di costi regolatori, imposti a cittadine e imprese. Se evidentemente dovesse essere difficile individuare in modo puntuale quali sono gli specifici costi regolatori per quei destinatari, per quelle imprese riguardo a quel settore oggetto di regolazione e quant'altro faremmo ricorso a range, a gruppi e grappoli di valori e se non sono disponibili informazioni utili a stimare quelli che si chiamano i costi totali dell'intervento, noi stiamo facendo un intervento che costerà tot oppure diminuirà i costi di tot per un totale di imprese che sono quindi noi facciamo sempre le cose P per Q P è quello che costa fare quell'adempimento legato a norme di regolazione Q è il numero di soggetti chiamati a fare quell'adempimento va da se, questo per arrivare al cuore del problema, che per capire di quanto aumento i costi oppure nel caso nostro prospettiva di semplificazione, di quanto diminuisco i costi di regolazione totali devo avere sia termini per valutare i pre, quanto costa quella di impimento e per quante persone. Se ho problemi a stimare i valori totali di questo provvedimento per lo meno devo riferirmi a un destinatario tipo, l'impresa tipo il cui costo medio tipo con un'impresa tale per adeguarsi alle prescrizioni introdotte nella nuova norma procedura è tot e quindi siccome più o meno il totale dell'impresa è questo posso immaginare che per un destinatario tipo, l'impresa tipo questo adempimento che sto chiedendo in più oppure questo adempimento che sto liberando in meno sarà tot. Tutto il concetto di quello che noi introduciamo e di cui parliamo nei prossimi dieci minuti è legato al concetto che il tempo è denaro e per noi la carta è un... siccome il problema che fronteggiamo è che abbiamo tempo e risorse definite e scarse e quindi ogni volta che alloghiamo tempo e risorse definite e scarse non le possiamo allocare per altri tipi di utilizzo evidentemente ogni volta, e qui stiamo proprio nel cuore della semplificazione ogni volta che chiediamo ai nostri destinatari che abbiamo individuato nelle fasi precedenti a fronte di un problema che loro trovano rispetto a fare cose per norme che l'amministrazione gli chiede gli chiediamo di solito carta, gli chiediamo informazione tutta questa carta costa... c'è bisogno di spendere attività amministrative per farla e quindi noi in qualche modo fare queste cose costa denaro e quindi noi cerchiamo in qualche modo di andare a capire quanto denaro costi e quindi quanto sia il beneficio una volta che eliminiamo cose da fare che gli costano denaro. stiamo in un quadro tipico di re-engineering dei processi noi lavoriamo sugli oneri principalmente informativi collegati al procedimento burocratico oppure sui tempi collegati a fare adempimenti di tipo burocratico e quindi ridisegniamo questo attraverso una cosa che si chiama re-engineering dei processi amministrativi ridisegniamo licenze, permessi o quello che vi fa a voi ridisegniamo, addirittura eliminiamo al fine di ridurre o eliminare adempimenti e costi relativi e quindi eliminando costi e eliminando tempi miglioriamo, tra virgolette, la vita di quei destinatari che abbiamo precedentemente individuato. Parliamo di costi, parliamo di regolazione ovviamente questo è il cuore del tema su cui ci intratteniamo noi se parliamo di semplificazione lavoriamo sui costi e semplificare vuol dire eliminare qualcosa all'interno di questi costi che sempre immancabilmente in cui rientrano tutte le attività di regolazione abbiamo in generale quelli che si chiamano i compliance cost i costi di conformità che in qualsiasi assetto vengono declinati sotto tre aspetti quelli fiscali monetari, cioè i bolli, i diritti noi chiediamo un'autorizzazione e ci paghiamo il bollo o ci paghiamo degli oneri fiscali relativi all'autorizzazione che chiediamo modifichiamo un processo produttivo stabiliamo delle norme per un processo produttivo cioè produrre certi beni o certi servizi in compliance con certe norme che stabiliscono come devono essere prodotte questi sono costi di regolazione sostanziale e poi abbiamo tutti i costi amministrativi che sono quanto noi in qualche modo chiediamo ai destinatari di norme di regolazione ogni volta che chiediamo alle imprese oppure anche ai cittadini di conformarsi agli obblighi informativi imposti da norme di regolazione nel senso che loro devono fare cose e dare la prova che hanno fatto quelle cose quindi i costi amministrativi sono tutte le attività amministrative che le imprese fanno e qui c'è molto il concetto di delta che è una delle cose del differenziale che ci deve accompagnare in tutta questa attività cioè fanno tutte cose che le fanno non le avrebbero mai fatte cioè è ovvio che le imprese per esempio tengono i conti cioè non è che dobbiamo dirglielo noi perché un'impresa tiene i conti per capire se sta guadagnando o se sta perdendo ma se noi gli chiediamo di tenere i conti o di tenere una serie di fare attività amministrative perché gli imponiamo una serie di cose specifiche legate a norme di regolazione imponiamo appunto onere amministrativi legate a informazioni che lei ci deve dare che in qualche modo sono quelle che farà per adempire a quello che noi richiediamo di adempia e quindi dobbiamo individuare gli onere amministrativi inutili e eccessivi rispetto a quelli che sono gli obblighi di tutela che la regolazione si prefigge in qualche modo dobbiamo attraverso questo tipo di analisi di impatto semplificato dobbiamo lavorare su quello che uno dei nostri geni assoluti di chi si occupa di questa attività che si chiama Sunstein che è un giurista americano che si occupa di regolazione qualità della regolazione e economia comportamentale chiama la morchia burocratica sludge sarebbe il termine americano per inglese per morchia per morchia intendiamo tutto quello che è sedimento grasso e catramoso intendiamo tutto quello che è eccessivo in termini di produzione documentale in termini di quello che in qualche modo ci rende difficile la vita e la cui eliminazione o semplificazione in qualche modo migliora la qualità della vita di quei destinatari evidentemente qui avete degli esempi tratti dall'esperienza di questo Sunstein che ripeto è il guru di chi si occupa di questi argomenti e che si sta concentrando su capire quali sono le regolazioni che generano in qualche modo morchia normativa e lui li chiama sludge audit cioè schede di verifica della morchia e producono in qualche modo chiarezza su quella che è l'importanza e la grandezza di questa appunto densità regolatoria in qualche modo sconveniente e in qualche modo arrivano a chiarire e a valutarne gli impatti attraverso questi sludge audit noi stiamo in qualche modo muovendoci in questa guisa evidentemente andiamo a lavorare sul concetto di obbligo informativo fondamentalmente cioè sui costi che i nostri destinatari delle nostre prospettive di semplificazione devono sottostare legati all'obbligo di fornire informazioni sulla loro attività evidentemente ogni volta che noi che il lavoratore che lavora mediamente tra i 1700 e le 1800 ore l'anno viene chiamato a rispondere a oneri burocratici all'interno di quei costi di regolazione che vi ho fatto vedere prima imposti da obblighi informativi sta adempiendo a cose che sottraggono tempo a quell'impresa di svolgere il lavoro che in qualche modo quello che è l'oggetto sociale di quell'impresa se di 1800 ore l'anno quello che ne lavora 150-200 legati a oneri amministrativi legati a obblighi informativi evidentemente su quello che dobbiamo lavorare anche ai fini della semplificazione qui ci avete un tipico esempio di obbligo informativo imposte dalla norma di regolazione quello che ci avete sulla bottiglietta d'acqua che ci avete in questo momento sulla scrivania non è altro che adempimenti richiesti in termini di informazioni che la società produttrice dell'acqua in questione non ci avrebbe mai pensato ammettere ma che invece sono state messe in base a norme di regolazione proprio per in qualche modo dare un quadro di certezza voi come consumatori avete bisogno di sapere che l'acqua sia adeguatamente pura adeguatamente ben tenuta e tutto quanto e il regolatore impone ai produttori norme che in qualche modo obbligano a gestire per avere autorizzazioni per mesi e esenzioni fare notifiche delle attività svolte dare conto attraverso rapporti e documenti della qualità delle cose che produce trasmettendola anche ai terzi consumatori di modo che i terzi consumatori siano in qualche modo in condizione di capire quali sono gli oggetti dei loro consumi e questi qua sono tipiche obblighi informativi che impongono appunto questo tipo di attività amministrativa all'interno di quella impresa e che evidentemente sono imposte da obblighi regolatori come vedete nella vignetta che è collegata a questa slide allora perché misurare la regolazione quella che chiamiamo la morchia burocratica perché generalmente gli oneri informativi sono connessi a oneri sostanziali sono ovviamente la cosa migliore sarebbe lavorare anche sugli oneri sostanziali però sicuramente dal punto di vista nostro delle prospettive di semplificazione come ci ha insegnato l'esperienza e come in qualche modo gli anni ci hanno portato a dire gli oneri informativi sono più facilmente identificabili e sono soprattutto simbolo per antonomasia dell'eccesso di burocrazia e quindi dobbiamo misurare gli oneri e i tempi collegati ovviamente collegandoli alla qualità delle informazioni disponibili ovviamente questa cosa viene all'interno di questo progetto di misurazione light di cui si sta occupando il Formez e che sta in qualche modo già eseguendo concretamente attività di valutazione di impatto noi andiamo a individuare una serie di informazioni relative ai livelli di compliance e ai livelli di sostegno di costi specifici sulla base dei destinatari che abbiamo individuato nel nostro processo cognitivo con cui mano a mano ci stiamo dando un'idea di come in qualche modo si sviluppi il tema del eccesso dei costi e quindi delle prospettive di semplificazione legate ad abbassare quell'eccesso di costi evidentemente quindi abbiamo due modi per raccogliere questo tipo di informazioni andiamo a sottoporre questionari a gruppi significativi destinatari che hanno utilizzato le procedure semplificate ai quali viene chiesta una valutazione complessiva di come sia cambiata soprattutto rispetto agli obblighi informativi la loro vita rispetto alla situazione che era precedente all'introduzione di norme previste per esempio dal 76 dal DL 76 e dal DL 77 evidentemente cercando di darci le indicazioni come quella diminuzione dei tempi su cui vi ricordate i flow chart che abbiamo visto dieci minuti fa come quella diminuzione dei tempi e quella diminuzione abbia comportato una diminuzione di costi e di attività amministrative che poi viene computata attraverso prezzi e quindi questa cosa si sia risultata in una concreta diminuzione dei costi di regolazione da che quelle imprese sostengono in quei settori evidentemente questa attività viene integrata con quello che si chiama un expert assessment cioè non solo ci prendiamo i destinatari diretti e indiretti e li intervestiamo diciamo più o meno in profondità ma ci prendiamo pure un'occasione attraverso intermediari attraverso esperti e in testimoni privilegiati nel capire come effettivamente per gente che è del settore la semplificazione che abbiamo introdotto in qualche modo attraverso un'interazione con la teoria con le tecniche del focus che credo vedete poi successivamente con altro webinar con questi focus andiamo a chiedere effettivamente quali sono stati a detta dei testimoni privilegiati rappresentativi in qualche modo gli evidenti e rilevanti effetti rispetto a quello che succede a queste persone calcoliamo gli oneri i tempi per quello che riguarda gli oneri ci avete un DPCM che è il DPCM 18 marzo 2020 vi harrà dato tra gli allegati di questo intervento ed è l'allegato 2 questa cosa si trova ovviamente in web nel DPCM ti dice per ogni singola attività amministrativa la presidenza del consiglio ministrico un gruppo ad hoc della funzione pubblica individuato testato è valutato qual è l'importo monetario di ogni singola attività amministrativa e quindi questo qua consente di calcolare il costo di una singola attività amministrativa risparmiata a seguito dell'implementazione di questo tipo di tecnica mentre invece col DPCM 26 ottobre 2021 l'allegato D ci avete i termini per come calcolare tempi e risultati attesi dalle prospettive di semplificazione quindi questi qua sono i due parametri di riferimento che in qualche modo utilizziamo e che stiamo utilizzando nel nostro progetto Formez al momento che andiamo a stimare i primi impatti di queste attività di semplificazione come vi dicevo stiamo la somma totale la somma totale di quello che in qualche modo i costi amministrativi totali non sarà altro che P per Q cioè il costo orario lordo della persona che si occupa da tempo era l'obbligo informativo quindi P è la tariffa per il tempo in termini di ore impegnate trasformate per quello che noi stiamo consultandoli per avere termini di paragone rispetto a quelle che sono il costo di questo tipo di attività è il numero di volte l'anno in cui è richiesto l'adempimento dell'obbligo informativo Q è il numero delle imprese per la frequenza delle volte in cui in qualche modo adempiono quell'obbligo informativo utilizzando appunto attività amministrative e quindi abbiamo P per Q e questo P per Q in qualche modo nella situazione senza intervento nella situazione con intervento laddove ci sia un'evidente diminuzione nella situazione senza intervento rispetto alla situazione senza intervento avrete in qualche modo il quadro di quello che succede e degli effetti che in qualche modo questa attività di semplificazione che stiamo facendo consegue per come termine di beneficio cioè di riduzione di costo per quei destinatari che sono chiamati ad adempiere quella regolazione in quel modo e che prima adempivano in un modo con la prospettiva di semplificazione che abbiamo introdotto gli si è ridotta l'attività amministrativa e quindi in qualche modo gli è migliorata la vita sulla base delle stime si individuano ambiti di criticità ipotesi di riduzione e questo sarà una delle attività che il Formez farà insieme con la funzione pubblica quindi viene prodotto una scheda di misurazione e soprattutto evidentemente viene sostenuta e supportata la proposta di semplificazione eventualmente anche andando a considerare eventuali integrazioni compendi e miglioramenti della semplificazione in questione Allora per quello che riguarda questa diciamo checklist di cose collegate alla semplificazione ci sono una serie di domande che sono quelle che vedete e dove dobbiamo andare a valutare la ridondanza dell'attempimento la proporzionalità dell'attempimento rispetto alla tutela dell'interesse pubblico per esempio l'attempimento rindondante ci sono obblighi informativi ulteriori rispetto a quelli imposti dalla normativa comunitaria quindi introduciamo un istante il tema del goal planning cioè tutto quello che il governo nazionale chiede in più al momento che recepisce normativa comunitaria in ragione di interessi o di situazioni particolari che lo Stato membro in qualche modo ritiene che siano suscettibili di essere maggiormente tutelati evidentemente questo tipo di analisi che vi stiamo prospettando aiuta facendosi le domande intelligenti che sono queste due categorie che vedete più queste altre che sono in qualche modo che sono queste che vedete qua la terza classe di domande è se l'obbligo informativo sia eccessivamente oneroso rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'obbligo informativo se può essere ridotta la frequenza per esempio se può essere informatizzata se la modulistica può essere semplificata e resa accessibile online se una standardizzazione aiuta su tutto il territorio nazionale se è possibile ridurre le fasi del procedimento se è possibile porre fasi in parallelo se è possibile ridurre i tempi del procedimento per quello che vi posso dire poi chiudo essenzialmente ogni volta che misuriamo per semplificare questa misurazione legata la quantificazione anche della tempistica di cui hai flowchart che vi ho fatto vedere riduce porta soprattutto le prospettive di semplificazione e di diminuzione del numero del diminuzione fondamentalmente dei costi di regolazione per settori categorie di intervento porta a ridurre il numero dei soggetti obbligati per cui capiamo che invece che obbligare tutti e l'amministrazione tipicamente ritiene più semplice spicciativo per lei obbligare con una norma strata generale tutta una serie di soggetti senza non capendo che invece non tutti devono adempiere nello stesso modo soprattutto quelli piccoli e peraltro questo ce lo chiede lo statuto delle imprese devono essere particolarmente aiutati e sostenuti perché quei costi di regolazione che vi ho fatto vedere prima hanno poi una caratteristica di essere profondamente regressivi sono molto più onerosi i costi di regolazione per i piccoli rispetto ai grandi le imprese di rango medio e grande se ne fregano dei costi di regolazione perché tanto li spartiscono su produzioni e sul numero di addetti è assolutamente pletorico rispetto a quei costi mentre invece le piccole e medie imprese hanno bisogno di un concreto sostegno e quindi in qualche modo soprattutto su prospettive di semplificazione dove poi l'analisi ci aiuta a capire che quei soggetti non sono particolarmente pericolosi e non sono particolarmente suscettibili di essere regolati allora per esempio ridurre il numero di soggetti obbligati può essere un'attività importante e giusta ridurre la frequenza annua dell'obbligo il concetto risulta è legato alla domanda vabbè ma io lo chiedo che mi importa invece che chiederglielo una volta ogni sei mesi una volta all'anno per tranquillità mia glielo chiedo una volta al mese andiamo a vedere questo tipo di analisi ci aiuta a capire che per esempio questa eccessiva frequenza di produrre questo tipo di informazioni non ha benefici corrispondenti anche per la stessa amministrazione che poi le deve capire gestire organizzare e quant'altro e quindi per esempio ridurre la frequenza annua è una delle cose che si fa tipiche quando parliamo di semplificazione della procedura e poi soprattutto ridurre il tempo necessario per adempio quindi semplificazione eliminazione di singole attività amministrative attraverso trasmissione telematica non bis in idem per il soggetto che è regolato dover trasmettere la stessa cosa otto volte a otto soggetti che hanno il torto di non parlarsi da loro per loro quegli otto soggetti sono sempre lo stato e quindi in qualche modo una volta che te l'ho trasmesso una volta tu c'hai già tutto battere a vedere te per conto tuo e questo sta anche a spiegare la semplificazione come momento diciamo importante dove si chiariscono le rispettive competenze e le rispettive caratteristiche questo schema di analisi che vi ho proposto questo in qualche modo è assolutamente congruente e importante per cercare di in qualche modo migliorare la situazione di quei destinatari e migliorare misurandola perché questo è soprattutto il portato positivo di questo tipo di attività troverete nel materiale una scheda quella sulle colonnine di ricarica che in qualche modo è uno dei prodotti Formez ed è un ottimo prodotto perché è un intervento molto specifico molto puntuale che è un collega su cui appunto un collega elaborato questo addirittura senza questionari facendo una raccolta desk partendo da un'analisi senza intervento con intervento su un intervento puntuale previsto da DL77 del 2021 e lì si vede esattamente come in concreto si sviluppa questa analisi se avete domande le cose io non vedo allora al momento non ci sono domande non io sono disponibile anche a seguito di questa attività se vi vengono in mente domande è tutto anche sulla base del materiale perché appunto vi dicevo vi verrà dato le slide vi verrà dato questo singolo esempio di scheda semplificata di impatto su un intervento di semplificazione specifico vi verrà dato l'allegato 2 quello che stima quali sono i prezzi delle attività amministrative e poi un esempio di flowchart quella legata al DL77 del 2021 questo è un pacchetto diciamo più o meno completo su quello di cui abbiamo parlato bene? ho già scritto in chat che troveranno tutto nello spazio dove si sono registrati quindi nello spazio di eventi PA io ringrazio il professor Martelli per la presentazione che è stata molto chiara anche per me che di queste cose ne sono veramente molto poco mi pare sia stata molto apprezzata anche dai partecipanti ringrazio i partecipanti che a loro volta ringraziano il professore no io spero per loro che mi sento sono stati un po' violentati passatemi il termine brutale ma così tanta attività in poco tempo poi fatta la sua distanza è complicata io credo invece che saranno molto grati per questa presentazione così articolata e così chiara infatti stanno ringraziando in chat detto questo io ringrazio loro per l'attenzione perdonate qualche eccesso verbale ma insomma ci sta e arriva una che dice una domanda che dice chi controlla che la semplificazione sia stata effettuata correttamente può fare la domanda di riserva la controlliamo noi attraverso questa attività di verifica e di richiami avete presente per usare un termine odioso degli ultimi anni i vaccini si fanno i richiami e quindi si fanno attività di valutazione nel tempo per cercare di capire come queste attività di semplificazione di qualità della regolazione stanno andando non è un caso che vi citavo il DPCM il regolamento il guardacaso è un regolamento AIR VIR e consultazione cioè qualsiasi cosa che noi proponiamo in termini di prospetto poi va comunque verificato parte della nostra cultura cattolica o paracattolica facciamo il battesimo ma poi facciamo pure la cresica e quindi cerchiamo la confermazione evidentemente è buona pratica nel tempo andare a verificare che queste cose stanno in piedi non sento Anna Rita al microfono scusate si è spento a mia insaputa non ho fatto nulla perché si spegnesse e dicevo professore continua ad arrivare ringraziamenti soprattutto per la chiarezza dell'esposizione nonostante la complessità della materia quindi ringrazio molto voi ringrazio il il format per questa opportunità perfetto le mando in giornata le mando il materiale grazie mille tutto a posto approfitto per dire ai partecipanti che il ciclo di webinar prosegue e troverete già l'evento pubblicato su Eventi PA e per la prossima settimana questo questo ciclo di webinar toccherà argomenti diversi infatti quello della prossima settimana nel webinar della prossima settimana parleremo di blockchain così per dare un diciamo un corpo a delle parole che ultimamente sembrano un po' un po' vuote potete cominciare ad iscrivervi anche per questo webinar detto questo io vi ricordo che avrete registrazione ai materiali di cui parlava il professore nel pomeriggio e che nei prossimi giorni avrete attestato alla presenza per poter poi scaricare l'attestato di iscrizione al webinar ringrazio tutti di nuovo per la partecipazione e ringrazio il professor Martelli buona giornata ringrazio tutti voi grazie arrivederci